Ciao amori, come state? Bentornati nel mio nuovo video Come state? Io sto benissimo, super bene Oggi super video perché come vi ho detto nell'altro video Oggi ci sarà stato un video bellissimo Quindi oggi vi porto con me per farvi vedere cosa mi mostro Cosa sto combinando da un bel po' di tempo Quindi oggi vi mostro quello che sto facendo Quindi ho iniziato a fare questi quadri Insomma, ho una bozza su TikTok che ho iniziato a fare Che poi mi mostrerò più in là Quindi verso maggio Vi farò vedere come sarà uscito Perché lo sto finendo di fare Il video con questo quadro Quindi verso maggio Ve lo farò vedere Quindi possiamo comunque iniziare Iniziamo subito il nostro video Ciao che si gira Allora Vi mostro il primo quadro Cioè il primo Diamo the painting Che è questo Che è stato finito In tipo Nemmeno una settimana Tipo l'ho iniziato Era un giorno normale E l'ho finito di quasi tipo domenica Cioè quasi una settimana quindi E niente Ho fatto questo qui E' molto carino E questo qui Con altri Che vi farò vedere ora Una volta terminato Ho la voglia di venderlo Quindi ci guadagno Con questi Quindi mi sono molto appassionata Perché mi appassionano davvero Perché ci sono queste perline qua Ti rilassimo un botto E niente Vi volevo far vedere qualche perline Ma siccome c'è un po' di casino Con le perline E' meglio evitare Comunque Questo è il risultato finale del gatto Non so se vi piace Questo è il gatto Che è uscito così E poi Ho iniziato a fare questo Infatti che Lo sto finendo comunque Di editarlo anche su tiktok Che vi farò vedere E' questo E' Parigi Che c'ho anche la cover del telefono Che ora non mi posso far vedere Perché c'è il telefono Che sta registrando Quindi Questo E' il quadro Di Parigi Questo non lo vendo Perché lo attacco In camera Aiuto Mi vuole molto Questo è il quadro Di Parigi E infatti non è terminato Perché C'ho da finirlo E Niente Questo è quello grande Che è 30x40 Però sarebbe 35x25 Quindi Dove ho comprato Il quadro 35x25 E questo è quello grande Ora Vi mostrerò Quegli altri Che poi Continuerò a fare Che sono Questi qua Queste sono tutte Le perline Comunque Cioè Bellissime E Ci sono sempre i codici Con i codici Ci sono In loro appositi Questa è la casa In campagna Ho trovato Questa Ho detto La prendo Che mi piace Non so se si vede meglio Così Eccola Questa Qua Molto carina Non ci fate caso Ha Questo nome Cinese Da ponete Non fa cos'è Però Questa qui sarebbe Non c'è una misura Forse è 30x30 Questa è 30x30 E niente C'è questa qui Con le sue Mitiche Perline E poi La sono Un botto Ovviamente Questa qua E poi C'è lei Queste sono Le loro Palline E queste E questo è Il quadretto Questa qua Che questi Comunque Saranno Una volta Completato Verrà Benissimo Infatti Già se lo vedete Già di così Poi lo vedete Con le pellene E poi Cambia tutto Odio questi I miei capelli Ora Sto quando ho mettito Il video Che non Ce ne capisco Niente E questo è Invece Questo è Non lo sapete Vabbè Un po' Lo misuro Comunque Questo È il gatto Colorato Quindi Adoro Tentissimo Comunque Questi Corretti Questi tre Che Sono Che vi ho Fatto vedere Tanne quello Grande E Li vendo Su 5 euro Quindi Comunque Una passione Che Mi ha fatto Dentare La mia amica Perché Lo faceva Lo faceva Anche lei E quindi Poi Con lavoro Stasera E Quindi Io ho iniziato A farla Anch'io Perché Mi piaceva Tantissimo E poi Io Su Wish Ho comprato Questa Qui Che è Apposita Per le perline Quelle lì Quindi Questa Io La vado A accendere Diventa Così Per la sera Visto Di Non stare A accendere Con la lucina Con la lì Con questa Così La faccio Prima E niente Se vi piace Anche a voi Potete Trovarlo Comunque Su Wish Su Amazon Su Qualsiasi Sito Probabile Che potete Trovarlo E Io Veramente L'ho scoperto Tammete Questa mia amica Sharon E niente Ma Mi ha fatto Appassionare Per questi Corretti Veramente Perché Ti Lassano davvero Tanto E niente Ragazzi Noi ci vediamo Venerdì prossimo Per un nuovo Video Perché Per il momento Ho fatto Solo questi E niente Noi ci vediamo Un prossimo video Venerdì prossimo Spero Comunque Che vi piacciono Se vi piacciono Potete veramente Trovarli da tutte le parti Su applicazioni Su applicazioni Io L'ho Su Wish E su Amazon Quindi Potete trovarli Si chiamano Diamond Painting Quindi Potete andare A trovare Normalmente Su Anche su Google Normalmente Potete andare A trovare E niente Amori miei Mi mando Un grossissimo Bacione Ma Noi ci vediamo Venerdì prossimo Con un nuovo Video Nuovo video A maggio Che Che Ovviamente Oggi non collaborano I miei capelli E Non collaborano Vabbè E Venerdì prossimo Con un nuovo Video Secondo voi Di maggio No Di aprile Perché Sono i tiktok Di aprile Quindi Vi carico Tutti i tiktok Di aprile E niente Venerdì prossimo Nuovo video Di Aprile Compilation Di tiktok Di aprile E niente Tenetevi aggiornati Su instagram Che è molto presto Vi dirò Tantissime novità Quindi In serio Per noi Tante novità E niente Mi mando Un tanto Così Un grosso Bacione Non vedo Di abbracciarvi Tutti Perché Mi mancate Davvero Tantissimo Visto Che Le mie fanpage Mi stanno Intasando Quando ci vediamo Quando ci vediamo Molto presto Ci vediamo Ci vediamo Ci vediamo Ci vediamo Ve lo prometto Siete La mia famiglia E niente Venerdì prossimo Ciao Dalla luna E fidati Se di cosa Sei bella Da paura